Giorni importanti per la città Giorni importanti per tutte le Dolomiti, per tutti coloro che vogliono affermare la cultura dei diritti. Grazie a voi amici del Film Fest di Belluno per avermi scelta e per avermi premiata nella categoria diritti. Ma ve lo dico con umiltà e anche con franchezza, la legge sulle unioni civili è stata solo il primo passo, l'uguaglianza piena ancora va raggiunta e la palla ora passa a voi, a chi fa cultura, a chi fa arte, a chi fa cinema, agli amici giornalisti e a tutti coloro che lavorano per la comunicazione. La discriminazione si vince quando la differenza è una normalità e in più è valorizzata. E quindi io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro ma soprattutto vi chiedo andiamo avanti. Andiamo avanti perché nessuno sia discriminato, andiamo avanti per l'uguaglianza piena, perché tutte le famiglie abbiano gli stessi diritti e lo stesso riconoscimento e tutti gli amori siano celebrati nello stesso modo. Grazie a tutti.